Si ispira a questo viaggio di David Bowie all'inizio degli anni 80 dove lui va da Mombasa, da Londra a Mombasa e chiaramente ho cercato di interpretare un po' quei momenti in cui l'abbigliamento maschile diventava più confortevole e anche più morbido mischiandolo naturalmente al territory, al suiting, diciamo tradizione di costume. I pesi sono super leggeri, tutto è sovrapponibile, abbiamo addirittura alcuni bomber che diventano delle sacche da viaggio e iniziamo la collezione appunto con questi bianchi, questi colori bianchi che vanno dall'ostrica al bianco candido per arrivare a una parte grafica dove invece abbiamo queste righe e queste stampe grafiche per arrivare poi bianchi e neri, entrare in un lapis lazio, lo blu, per finire poi di nuovo con un nero elegante. Perfetto, grazie.